Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha quasi un dovere morale di sostenere la diciannovesima edizione del premio Benedetto Croce, così come ha sempre fatto nel corso degli anni, che si svolgerà a Pescasseroli nelle giornate 25, 26 e 27 di luglio. Sarà un evento straordinario, un evento bellissimo e soprattutto che viene strutturato per un percorso culturale che avviene durante tutto l'anno con eventi collaterali, bravissimi ad entrare nelle scuole, il coinvolgimento dei ragazzi in un momento in cui la tragedia di Pescara impone tutti noi una riflessione su dove stiamo andando, soprattutto sulla valenza sociale e la crescita dei ragazzi, di come sia importante che i ragazzi tornino a leggere. Pescasseroli è caratterizzato e si caratterizza e si vuole caratterizzare con il premio Croce, che è la manifestazione più importante e che a fondo da volano per tutta una serie di iniziative culturali, 52 giurie popolari, si è arricchito di Biella, Casa Micciola, Pisa, un'associazione di Vibo Valencia, quindi un percorso culturale che si arricchisce sempre di più, che trova riscontro in attenzione e in interesse.